Il Revenge è un tessuto in lana pettinata ottenuto da lane Merinos Super 150S. La famiglia dei tessuti Revenge si sviluppa in quasi 200 varianti e stili diversi in ogni collezione. Il Revenge di Vitale Barberis Canonico rappresenta una rivincita contro un mercato che troppo spesso punta al sensazionalismo dei numeri e dei nomi. Il Revenge rappresenta la vittoria della qualità sull'immagine, una qualità senza compromessi. Dunque noi vogliamo ricreare qui in questo spazio quello che succede in Sartoria. Il Revenge è il reso testo. Il Revenge è il reso testo. Il Revenge è il reso testo, un prezzo testo testo. Questo lavoro si fa se si ha passione, se non si è appassionati è meglio cambiare mestiere. Grazie a tutti.